ciao a tutti oggi è il 31 gennaio del 2021 e concludiamo quest'anno con un bellissimo pacco appena arrivato era il famoso pacco di shane di cui vi parlavo nel video precedente mi approfitto per farvi tantissimi auguri di buon anno dato che sarà l'ultimo video del 2021 e volevo spacchettare con voi questo pacco io ho già tolto diciamo l'involuro perché comunque era abbastanza sporco quindi ho inserito tutto all'interno di un sacchetto però non ho ancora aperto nulla quindi andremo a fare insieme anche perché sono così tante cose che sinceramente non ricordo con con precisione cosa ordinato cominciamo subito allora la prima cosa che vedo che diciamo è quella più grande è questo qui questo qui è un mobiletto che ho acquistato e mi ho presi ben due di questi all'interno andrò ad inserire tutto ciò che ho ordinato e non solo adesso vi farò vedere quindi apriamo insieme è una mini cassettiere in plastica devo dire che abbastanza resistente con questi cassettini molto capienti dato che comunque metterò cose piccoline devo dire che per quello che ho sono abbastanza capienti e credo che mi basterà anche utilizzarne uno di cui potrò fare altro la mia idea era anche di fare degli stickers omaggio e anche i miei bigliettini insomma personalizzati da mettere all'interno dei pacchetti degli ordini che mi vengono fatti quindi era un modo per sistemare un con la scrivania anzi le scrivanie dato che sono due e ho bisogno sempre di organizzarle e questo è uguale ne metto una da parte è una la lascia portata di mano dato che è man mano ne approfitto per sistemarli insieme ora cominciamo subito la prima cosa che vedo è questo qui come vi dicevo quasi tutto l'ordine è fatto da glitter e brillantini quindi diciamo che vedrete più o meno queste cose allora queste sono delle foglioline qui il pacchetto un po glitterato perché forse sono usciti alcuni allora queste sono delle foglioline non so come si apre ma così era al contrario delle foglioline sempre per creare con la resina tutte un po oleografiche e ci sono diversi colori quindi mi piaceva l'idea di avere tanti colori diversi e questo è il primo poi questo poi dovrò pulirlo già pieno di glitter andiamo avanti abbiamo che belli questi non ricordavo di averli presenti sinceramente questi qui sono delle specie di pagliettine a bastoncino e questo già possiamo andarle inserire qui dentro vedrete tantissimi video con la resina da sotto tutti questi glitter e anche di shaker card perché comunque mi piacerebbe anche portare questo genere di video e mettervi anche i cartamodelli per poterle realizzare che belli pure questi allora dirò che belli per tutti i pacchetti perché io sono l'amante di glitter e brillantini e queste cosine così quindi allora queste lunette che sono tipo in alluminio diciamo non sono pagliette ecco sono proprio in alluminio come vedete ci sono stelline luna luna di varie forme poi ci sono queste palline carinissime poi da semplici glitter è caduta una stellina poi andiamo avanti queste sono delle foglioline che vado utilizzare spesso per creare gli orecchini e fare qualcosa di particolare per i gioielli ecco anche qui vari colori come oro rosa blu nero molto belli non voglio raggiussare tutto benissimo andiamo avanti e qui abbiamo un set in argento con varie forme ci sono i cuoricini le stelline fiorellini insomma lunette un mix anche diamantini e hanno questi cangianti sono un po iridescenti belli anche questi un set simile ma non uguale e questo qui che ho preso con il rosa e lilla questo anche non ricordavo di averlo preso o almeno ricordavo fossero altri colori ma evidentemente mi sbagliavo anche qui abbiamo stelline rombi cuoricini queste mini perline bellissime poi questo è qui non volevo ora di averle perché spesso vedo delle creazioni che hanno all'interno delle letterine per creare i nomi quindi credo di averne preso due di questi ma adesso man mano andiamo controllando faccio lo scotch per starlo chiuso vediamo queste qui sono veramente piccole dovrò prenderle con la pinzetta per sistemare all'interno delle creazioni però guardate come luccicano bellissime bellissime stupenda poi abbiamo eccole e appena trovate l'altro pacchettino con le lettere sono stracolma di glitter pienissima questi dovrò vedere un po dove sistemarli perché sinceramente avevo acquistati questi per glitter nel dispensare diciamo rotondo il contenitorino questi qui non so ancora dove metterli intanto li mettiamo qui poi vediamo questi sono invece dei brillantini anzi degli strass scusate a forma di cuore e ci sono vari colori quindi niente di particolare semplici strass a forma di cuoricino ok ora cominciamo con quelli nel barattolino questi qui li ho amati appena l'ho visti bellissimi hanno un sacco di sfumature quindi ad esempio questi qui col verde come vedete hanno delle sfumature verde più chiaro vari e varie colorazioni sono abbastanza pieni di brillantini quindi spero di non sporcare tutto però già voglio cominciare inserire insieme e si credo che l'inserirò per tipo non per colore quindi ad esempio questi di questo modello l'inserisco qui magari anche accanto purtroppo non entrano tutti in un solo cassetto quindi ne dovrò utilizzare due ok almeno sono entrati in due cassettini questa qui la conservo e magari potevo servirmi per qualcosa quindi devo dare una pulita perché guardate che in condizioni sono poi pensavo arrivassero un po prima però dopo e sono dei glitter che poi non so che non sono glitter in realtà non so esattamente come si chiamano però concedetemi la parola glitter perché non so come chiamarli e sono tutti a forma di fiocchi di neve ci sono quelli più piccolini quelli diciamo iridescenti quelli trasparenti varie tipologie questi riuscirò tantissimo ormai per le creazioni dell'anno prossimo andiamo avanti qui vedo alcuni che sono usciti dalla bustina questo era pure fuori ma non c'entra niente questo era un altro set di palline cerchietti tipo di carta di questi colori fluo non sono brillantinati ma sono fluo potrebbero servire per qualche creazione volevo avere anche qualcosa di diverso rispetto ai soliti glitter poi queste qui mi hanno colpito perché era una cosa che non avevo ancora visto e sono delle piccole sfere anzi mezze sfere di vario colore come se fossero mezze sfere in vetro tipo non so cosa posso crearci però ci sono piaciute dovevo prenderle questo e qui li inserisco in questo cassettino visto che ci sono cose un po miste e sono singoli pezzi questi sono gli stessi credo se non erro di questi simili credo fossero uguali non sono simili e hanno sempre all'interno stelline cuoricini fagliattina un po misto nell'infobox vi lascio uno sconto del 15 per cento su tutti gli articoli di shine se volete usufruirne andiamo avanti altre mini pagliettine mamma mia questo è stra pieno di pagliette bellissime non capisco se sono fuori o dentro sono fuori ok mamma mia comunque sono finta di niente bellissimi colori anche questi poi qui vedo ecco l'ho preso un paio queste diciamo stelline a quattro punte e poi ecco ricordavo di averlo preso questo è uguale identico a questi qui però questo è lilla viola questo è con con l'azzurrino ricordavo di avere qualcosa uguale però di colore diverso quindi gli stessi sempre stelline cuoricini quando dei coniglietti carini anche qui dei fiocchetti di neve insomma pensavo di averne preso un po' meno glitter stavolta ne ho praticamente tanti qui le pagliettine come queste qui è lilla però con l'argento metto qui ora non so se ci sono ancora altri glitter però vado uscendo quello che vedo perché vedo altro cominciamo con questo non lo apro perché sono piena di glitter e si arriva a finire un glitter qui un brillantino poi è un problema toglierlo questo qui è uno stampo in silicone per creare degli shaker a forma di cuore quegli shaker per chi non lo sapesse sono quelle creazioni che all'interno hanno quella specie di liquido con tutti i glitter e perline che permette di muovere appunto questa creazione e far muovere tutti i glitter e le perline all'interno quindi non vedo l'ora anche di realizzare qualcosa poi un altro shaker però rotondo è questo stampo per creare gli orecchini vedete queste qui magari ve li farò vedere meglio in un prossimo video dove li utilizzerò questo è anche uno stampo per gli orecchini abbiamo qui le stelle il cuore e questa forma qui poi altro stampo sono questi cuori super lucidi stampo che vedo spessissimo su youtube e con questi vorrei creare insomma dei portachiave o qualcosa simile con degli stickers poi mi piace il fatto che siano tanti e non sia il singolo stampo in modo tale che ne posso fare diversi contemporaneamente poi poi andando avanti vedo altri glitter eccoli qua sempre pagliettine irrisciescenti bellissimo anche queste vedo ne sono uscite alcune fuori oddio ecco qua le faccio vedere meglio queste sono col giallino ho preso queste colorazioni un po pastello mi c'è il cel celeste e il lilla il rosa le vado ad inserire qui devo chiuderlo un po meglio perchè ecco chiuse un po male ok queste quanti poi andiamo avanti e vedo un altro stampo la famosa zampa anche se me l'aspettavo più sottile è gigantesca cioè qua ci vuole un litro di resina pratica magari la farò più bassa però questa qui ha la zampetta diciamo proprio i cuscinetti ruidi quindi verrà un effetto un po' particolare non so non so sinceramente come però mi piaceva l'idea che non fosse liscia ma proveremo a creare qualcosa poi altri stampi questi per creare dei dei fermagli dei fermacapelli anche questi grandetti devo dire magari magari questo qui è un po' più sottile ma sinceramente questo qui questo sono proprio enormi quindi vedremo cosa uscirà fuori un piccolo osso questo me l'aspettavo sinceramente più grandetto questo è un po' piccolino però è carino questi rettangoli servono per creare dei segnalibri con le nappine ne ho visti di diverso tipo e non vedo l'ora i promobili poi ecco ovviamente non potevano mancare le mollettine per creare i fermacapelli e questi che sono dei mi era il termine insomma coi fili per fare le collane ecco che già avevo trovato in un pacco precedente che mi era stato omaggiato da un sito però ormai le avevo ordinate e non sapevo sinceramente fossero all'interno di quel pacco quindi ne avrò un po' di più allora ragazzi rieccomi ieri ho dovuto stoppare il video perché poi è arrivato il corriere si è fatta ora di pranzo quindi diciamo che e non sono riuscita più a registrare quindi sto riprendendo il video adesso che è 1 gennaio allora dove ero rimasta gli avevo fatto vedere questi qui che erano i fermacapelli e le catenine e i raccetti insomma per fare le collane poi andando avanti mi sono accorta nell'altro nell'altra scrivania che avevo questi qui che se vi ricordate erano anche inseriti in un altro pacco quindi ne approfitto anche per sistemarli all'interno della mini cassettiera allora questi anche sono chiusi un po' male mi sento un po' confusa con tutti questi glitter ovunque comunque andiamo avanti poi all'ultimo vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato ieri qui abbiamo poi una fresa perché ho visto che in tante la utilizzano per limare le creazioni dato che alcune creazioni che sono un po' più particolari e viene male inserire la lima e limarle quindi ho optato per una fresa che poi tutti questi glitter e appunto la fresa sono tutti accessori e prodotti che si utilizzano per fare le unghie quindi li trovate anche in altri siti insomma ecco qui ci sono diverse diverse punte poi adesso sono veramente pronta per realizzare delle creazioni complete perché tra poco vi faccio vedere appunto cosa mi è arrivato poi questa qui è una fustella anzi delle fustelle rotonde queste mi mancavano dato che molte creazioni le shaker card sono fatte appunto con questo tipo di fustella mi piaceva questo finto cuscito che si vede sui bordi quindi li ho acquistate poi abbiamo questo qui questo quando l'ho visto mi sono innamorata perché adoro io sistemare un po' nei loro contenitorini tutti i glitter tutti i colori acrilici che ho eccetera quindi questo non potevo farlo scappare poi veramente è costato pochissimo credo un euro e cinquanta all'interno potete levare anche questi lasciarlo senza se preferite però ogni singolo ogni singola striscia ha quattro piccoli contenitorini dove all'interno io sicuramente metterò tutti quei glitter che non hanno che hanno diciamo le bustine ad esempio queste qui perché secondo me è più comodo poi con le pinzette prenderli da qui che dalla bustina quindi questo lo farò in seguito anche perché devo capire che glitter devo mettere e senza inserire anche quelli all'interno dei loro già contenitori poi abbiamo ok qui credo che abbiamo terminato e cambiamo il genere di cose perché ci spiego dato che il mio lavoro principale comunque è organizzare feste quindi fare i tavoli per rinascita, battesimo, compleanno e tutto e avevo un tavolo da fare per un primo compleanno a tema con roncina e orsacchiotta quindi diciamo che ho preso un po' di cose che potevano servirmi non fate caso alla busta perché i palloncini erano all'interno del pacco senza la loro busta quindi diciamo che almeno questi li ho raccolti tutti ho preso una busta che avevo io dentro e li ho messi qui qui noto che ci sono diverse tonalità in realtà dovevano essere tutti di questo rosa però c'è qualche palloncino così più piccolino però non mi dispiace quindi semplici palloncini questo qui è una striscia fatta di paillettes che serve per decorare il tavolo poi qui vabbè palloncini come vi dicevo a forma di orsacchiotto non li apro perché poi per chiuderli all'interno diventa problematico delle corone anche se questo qui devo aprirlo perché sinceramente non mi ricordo cos'è queste sono delle corone forse ho capito questo dovrebbe essere il numero uno dovrebbe essere il numero uno sì grande pensavo più piccolo enorme non entra neanche nella camera il numero uno con la corona una allora il pacco shane è terminato l'ultima cosa sarebbe questa tutta piena di glitter ovviamente che questo è stato un regalo perché su shane una volta che raggiungi un tot di spesa puoi scegliere tra vari omaggini dato che avevano messo in omaggio un piccolo portamonete che non mi piaceva tanto oppure questa che è la fascia elastica per allenarsi quindi siccome dovevo comprarla ho scelto questa qui finito shane vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato da amazon di questo vi lascio giù nell'info box il codice anche se entrando sul sito su amazon perché volevo controllare un po' la spedizione mi sono accorta che non era più disponibile quindi attualmente credo non sia più disponibile però vi lascio lo stesso link così magari potete vedere man mano se ritornano disponibili o vi lascio qualcosa anche di simile questi qua sposto questo altrimenti non si vede bene ok questo qui è un kit di pigmenti per la resina allora non sono esclusivamente per la resina ma anche infatti qui leggevo che sono naturali non sono tossici non irritano si possono utilizzare anche per i cosmetici infatti sul retro c'è scritto che si possono utilizzare per colorare gli smalti le luci da labbra gli ombretti poi ho letto anche slime resina quindi hanno tante funzioni però io li utilizzerò comunque per la resina al momento come vedete ci sono tantissimi colori sono abbastanza perlati questo oro quando l'ho visto mi ha fatto impazzire bellissimo e ovviamente il rosa all'interno c'è questo questa carta insomma che li protegge guardate bellissimi quindi adesso ho abbastanza glitter ho anche colori e anche un bel po' di stampi per poter cominciare a creare un po' di cosine in resina poi all'interno c'erano questi due cucchiaini per prendere i vari pigmenti poi in omaggio c'erano questi guantini e questi qui questi utilizzerò sempre per fare dei gioielli oppure dei segnalibri molto bellini allora il video termina qui vi ho fatto vedere tutti gli acquisti sicuramente sto già riempendo un altro carrello di shine per alcune cosine che comunque mi mancavano anche se come glitter ho preso tutto quello che mi piaceva all'interno del sito se avete dei link di shine con dei brillantini o varie decorazioni anche per la resina che io non ho acquistato e che pensate siano carine scrivetelo giù nei commenti lasciatemi il link così io preparo il carrello e poi vi faccio il video dove vi mostro tutto il video termina qui vi auguro di nuovo un buon inizio anno buone feste e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video lasciate un like se vi piace questo genere di contenuti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao